Allora, dato la mia esperienza si basa principalmente su tutte le cose che ha detto in quest'ultima mezz'ora questa fantastica insegnante non tradizionale, appunto per questo bisogna avere un occhio di riguardo perché sono cose fuori dal comune che ci daranno risultati fuori dal comune. La mia esperienza appunto che oltre che 25 anni di lavoro manuale e da un paio d'anni che sta seguendo la crescita personale e questo è un condensato di quello che servirà a me per aiutare quello che sono, come tutti voi lo faccio la scuola.